Un assessorato che curi l'economia e le ecologie del mare, la volontà di rimuovere i posteggi dalle rive, dall'acquario il molo udace, lo spostamento delle attività croceristiche in Portovecchio. Questa è la sintesi della proposta articolata con dati, ragionamenti e prospettive dalla lista futura, che oggi ha anche lanciato l'appuntamento di venerdì su tutt'altro tema, il mercato coperto di via Carducci. Oggi ho annunciato che venerdì alle 11 noi faremo una grande manifestazione, abbiamo chiamato anche la città nel senso buono della parola, dicendo venite, partecipate, difendiamo questo sito giù le mani dal mercato coperto, non alla grande distribuzione e per dimostrare la nostra traversalità, perché penso che su argomenti del genere non si può più essere ideologici, noi oggi stesso firmeremo la petizione fatta da Adesso Trieste. Dire ai cittadini venite a prendervi le chiavi, attenzione perché sono convinto che quando poi c'è una sfida qualcuno è capace anche di accettarla, prima o poi e mi auguro che gli imprenditori triestini, seri, capaci, tutti quelli che già sono stati coinvolti in altri progetti e poi messi da parte, insieme a tutte queste forze politiche partecipano venerdì e perché no, andiamo a prenderci le chiavi del mercato coperto. Tornando a mare e turismo, è il Porto Vecchio il luogo più indicato per far crescere e migliorare l'accoglienza delle crociere in città. Organizzarle in modo da poter avere un terminal moderno, degli ormeggi adeguati alle navi anche più grandi, lì si potrebbe gestire il traffico in maniera meno invasiva per la nostra città, chiaro che le infrastrutture devono rendere questa funzione sostenibile da un punto di vista economico e ecologico, pensiamo ad esempio che se di là riuscissimo a realizzare gli approdi con l'elettrificazione, potremmo permettere alle navi di non mantenere i motori accesi, inquinanti durante l'ormeggio e quindi alimentarli in maniera più sostenibile a livello ecologico.